salve a tutti signori e bentornati sul mio canale oggi torniamo con la rubrica avido legge cose e andiamo sempre a parlare del palazzo delle ombre di svevo ruggeri oggi portiamo un altro filone narrativo sempre dello stesso libro e ci andiamo a inoltrare un po di più nella parte diciamo più dark e più fantasy semplicemente qua si parla di un convegno universitario dove un professore parla della metempsicosi ossia della trasmigrazione dell'anima da un corpo umano a un oggetto inanimato o comunque un altro corpo e niente vi lascio ascoltare quello che è il monologo del professore e si sente un cognome che si è già sentito che è l'ansaldi che è quello di norman del primo episodio cioè colui che ereditò dallo zio deceduto diverse proprietà e diversi è un certo capitale tipo di 40 milioni di euro una cosa del genere e niente vi lascio ascoltare il racconto letto da me il racconto l'estratto del libro letto da me e poi mi saprete dire magari nei commenti cosa ne pensate e vi do un piccolo incipit dopo dopo questo piccolo minuto forse tre o quattro questo forse è l'estratto più lungo di tutti ci vediamo dopo terzo brano la congettura della metempsicosi oggettuale il professor bollani interviene al convegno sulla metempsicosi organizzato dalla fondazione genos da lui presieduta buongiorno a tutti questo convegno come sapete è stato organizzato dalla fondazione genos di cui faccio parte l'architetto marco lanzaldi che purtroppo ha lasciato da poco il corpo terreno ha creato questa fondazione con l'intento di stimolare la ricerca antropologica filosofica e culturale conclusa la parte accademica ciò che andrete ad ascoltare da questo momento in poi non è da considerarsi come qualcosa di acclarato né alla velleità di diventare argomento universitario almeno per il momento bensì a un valore di congettura e mi auguro sia per voi affascinante almeno quanto lo è stato e di fatto lo è per noi in uno degli incontri nei salotti culturali l'architetto lanzaldi portò una teoria a lui molto cara che riguardava la metempsicosi la trasmigrazione dell'anima da un corpo a un altro abbiamo sentito e visto nelle parole nelle slide nei filmati portati dai relatori come questo si è ritenuto verità ad alcune religioni e culture e come spesso sia riconducibile a un percorso perfettibile dell'anima che di vita in vita raggiunge la fine del suo viaggio il punto apicale di questo cammino collima con la compiutezza della perfezione e l'anima non avrà più la necessità di riproporsi nuove vite l'architetto si chiedeva se mai fosse altrettanto possibile che la trasmigrazione potesse avvenire non soltanto in esseri viventi bensì in cose oggetti ambienti dimensioni parallele o conservata in particolari recipienti anche temporali è vero siamo in una chiesa ma per fortuna è sconsacrata da molto tempo perciò non rischio né i redivine per direttissima né scomuniche di sorta a esporre teorie così poco cattoliche nella chiesa il pubblico fino a quel momento attento e silenzioso scoppia in una fragorosa risata l'intento di sciogliere la tensione dovuta all'interesse è andato a buon fine ora il professore avrà ancora più attenzione dagli astanti provati da un convegno durato alcune ore se tutto ciò fosse possibile sarebbe spiegato il perché si ritenga che alcuni oggetti siano maledetti non si tratterebbe dunque di sortileggi maligni e opera di fantomatiche fattucchiere o stregoni bensì del peso dell'anima di tutti i possessori di quegli oggetti nell'arco di anni o secoli che li hanno amati bramati e di cui ne sono rimasti in un certo qual modo soggiugati credo sia noto a tutti per esempio la storia della maledizione del diamante hope custodito presso lo smithsonian museum di washington che ha visto la fine tragica dei suoi possessori morti per assassini o malattia o suicidio e se non si trattasse di una maledizione bensì della sua capacità di catalizzare la vidità e la bramosia di anime corrotte della sua bellezza e del suo fascino se esso stesso fosse capace di nutrirsi dell'energia vitale dei suoi possessori nell'arco dei secoli accrescendo la sua proverbiale magnificenza state tranquilli non è affar vostro non potreste mai trovare una somma sufficiente per acquistarlo nemmeno mettendo insieme i risparmi di 4 o 5 reincarnazioni anche in questo caso il pubblico presente si rilassa in una nuova risata avete mai sentito le leggende su cadario a venezia anche in questo caso sembra esserci una maledizione che colpisce tutti i proprietari destinati a morire di morte violenta o per suicidio nessuno riesce a godersela fino in fondo in questa vita eppure è meravigliosa e si affaccia sul canal grande e se le anime dei suoi proprietari albergassero ancora lì e tutte le case infestate di cui è piena la letteratura e i film dell'orrore ma spesso e volentieri anche un certo tipo di cronache i fantasmi non potrebbero essere una sorta di anime trasmigrate negli oggetti negli ambienti così amati durante il corso della loro esistenza da desiderare una così profonda immedesimazione post mortem siamo dunque certi che il nostro paradiso sia in cielo siamo dunque certi che dobbiamo tornare al nostro padre generatore o all'iperuranio la contemplazione di dio che attende l'anima del giusto nel paradiso cattolico è pur sempre individuale se fossimo tutti morti e giusti e perciò accolti in paradiso saremmo individui celesti non parte di dio ma in contemplazione del divino e dunque se questa individualità indipendente che corrisponde alla nostra anima avesse la capacità decisionale di indirizzarci dove desidera sia che siamo giusti miseri o malvagi se davvero potessimo avere la capacità di scegliere il nostro specifico paradiso ovvero risiede in eterno la platea è silenziosa non si muove una mosca e non si sente nemmeno tossire e ancora siamo certi che quando leggiamo di un disastro aereo che ha devastato le vite di 200 persone che stavano andando in vacanza da qualche parte abbia davvero arrestato il viaggio compiuto dall'anima dei suoi passeggeri rapite in cielo o giunte a destinazione per divertirsi per sempre erano questi alcuni dei dubbi che attanagliavano l'architetto lanzaldi il quale investì molte risorse sia economiche che psichiche per riuscire a trovare risposta ai suoi quesiti una teoria avanzata dello studioso arnando orlandi molto attivo nel recente passato riportò tre assiomi che potevano interpretare il postulato di lanzaldi l'intenzione il libero arbitrio e l'inconscio non me ne vogliate se fornisco una spiegazione dei termini italiani che ho utilizzato per postulato si intende un principio che non ha bisogno di essere spiegato per ritenerlo vero mentre la sioma si può considerare un sinonimo di postulato poiché il principio è accettato a priori in quanto evidente lanzaldi non era soddisfatto perché non si poteva prendere per verità assoluta il suo postulato non contestò le tre vie interpretate di orlandi ma fu spinto a trovare la loro decifrazione se non lo avesse fatto il rischio di entrare in un nuovo concetto di fede sarebbe stato troppo elevato e la fondazione genos non si propone di foraggiare nuove religioni né tanto meno di fare proselitismi dalla platea si solleva una sorta di brusio i ragazzi presi dal discorso alzano le mani per fare alcune domande vedo che ci sono alcune mani alzate permettetemi prima di finire il concetto e poi sarò disponibile al confronto costruttivo il professor bollani fa una pausa per riprendere mentalmente il filo del discorso poi si schiarisce la voce da quell'obiezione di lanzaldi nacque la congettura di orlandi perciò né una legge né un postulato né assiomi e tantomeno nulla a che vedere con la fede la congettura orlandi prevedeva una domanda ovvero sia se fosse possibile la trasmigrazione dell'anima in cose oggetti ambienti dimensioni parallele e se si potesse conservarla in particolare i recipienti anche temporali la risposta a quella domanda è sì la congettura orlandi venne perciò presa e approfondita da un da un pool di studiosi della genus così che potesse essere ampliata e organizzata in una struttura logica più efficace da quel momento in poi prese il nome di congettura della meta psicosi oggettuale a cui seguirono i tre fondamenti di intenzione la persona in punto di morte pienamente cosciente di morire può dedicare i suoi ultimi momenti energetici di vita terrena all'intenzione di trasmigrare in un determinato posto o un oggetto o dimensione di libero arbitrio la persona in punto di morte pienamente cosciente di morire sceglie se seguire la propria religione e dunque la fede con i dogmi relativi all'aldilà conosciuti durante l'esperienza della propria esistenza oppure convogliare i suoi ultimi momenti energetici di vita terrena per trasmigrare in un determinato posto o oggetto o dimensione d'inconscio la persona non percepisce di essere giunta alla fine della propria esistenza fisica e la morte risulta accidentale cogliendola di sorpresa incidente assassino arresto cardiaco morte naturale di qualsiasi genere e la trasmigrazione avviene dunque inconsciamente in un determinato posto oggetto o dimensione salve a tutti i signori di nuovo spero vi sia piaciuta la mia lettura in tutti i casi e come vediamo è cambiato completamente l'ambiente quindi non è più come nel primo capitolo abbiamo trovato il norman che ereditava quindi era una situazione un po più comune ereditava una grande cifra e nel secondo nella seconda lettura abbiamo visto il il detective che trovava un cadavere andava a intervistare un testimone quindi si andava un po più nel giallo un po più nel thriller e invece questa volta ci inoltriamo un po più nel dark iniziamo avere un po di tratti fantasy per così dire niente io non mi esprimo più di tanto lascio a voi i commenti se volete commentare dirmi quello che ne pensate di questa lettura se avete già avuto modo di tastare il libro di leggerlo di comprarlo sappiatemi dire cosa ne pensate e ogni ovviamente ogni critica ogni ogni opinione è ben accetta e niente ci vediamo in questi giorni saranno altri due video che usciranno uno due video io non mi ricordo mai non sono incapace di di contare comunque se sono uno o due lo scopriremo molto breve e niente vi ringrazio e chiaramente vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace commentare tutti i video che volete tutti i video che potete sempre mettere mi piace commentare e iscrivervi al canale e vi ricordo anche che se volete potete iscrivervi su instagram e quindi seguire scusate e vi ricordo anche che potete seguirmi su instagram e su tik tok in modo che iniziamo a crescere anche su altre piattaforme non soltanto su youtube e niente vi voglio un mondo di bene grazie a tutti grazie soprattutto agli abbonati che sostengono il canale e ci vediamo molto presto con altri video di avido legge cose quindi il book blogging ciao a tutti signori un abbraccio